Come ti chiami? Yoshiyasu Yanagiyan Come? Yoshiyasu Yanagiyan Yoshiyasu E tu? Didri Svidraigelov Dredre Dimmi qualcosa di te Sono un uomo Un uomo giapponese Non riesco a immaginare come si è fatto un giapponese Sono fatto come un essere umano Posso toccarti? Tu mi puoi vedere ma io no Non riesco a immaginare come si è fatto un uomo Non riesco a immaginare come si è fatto un uomo Non riesco a immaginare come si è fatto un uomo Grazie a tutti No, no, per favore Hey, che fai? Non lo so Sei un essere umano infelice Mi piace il tuo viso Mi piace anche il tuo odore È molto dolce Uso ormai, sai? Cioè... E Tokyo com'è? Perché non me la descrivi? Tokyo... È solo una megacittà Grazie a tutti